Dalle banche alimentari negli Stati Uniti arriva un grido di aiuto. La rete che fa capo alla Feeding America, un'organizzazione no profit, teme di non riuscire più a soddisfare le richieste dei più bisognosi. Il cibo inizia a scarseggiare. Oltre alla crisi legata alla pandemia e alle carenze della catena di approvvigionamento, c'è un aumento record dei prezzi dei prodotti alimentari, come sostiene anche la vicepresidente dell'ONG, Katie Fitzgerald. In pratica i costi sono superiori rispetto a nove mesi fa, tutto costa il doppio, se non anche di più. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid, circa 60 milioni di persone negli Stati Uniti hanno avuto accesso agli aiuti di queste banche alimentari, donne e uomini di ogni età, come Ita e Spinosa. Vengo qui perché ho bisogno di cibo per la mia famiglia, questo perché i prodotti nei negozi sono troppo costosi e i soldi che ho non bastano. Il paniere della spesa è lievitato dalla East Coast alla West Coast, da New York a Los Angeles e in molti causa anche Covid. Si sono trovati in serie difficoltà, con l'avvicinarsi poi delle festività è necessario fare alcuni sacrifici. Sarà un giorno del ringraziamento molto duro, c'è chi non rinuncerà alle tradizioni, per fortuna le banche alimentari hanno distribuito i tacchini e del cibo, quindi si potrà festeggiare. Intanto sembra piuttosto improbabile che la situazione possa migliorare entro breve tempo, secondo la maggior parte degli analisti ci vorranno mesi per risolvere la crisi di carenza globale di cibo, nel frattempo i prezzi continueranno a lievitare.